Ciao e benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale dedicato alla tecnologia. Come vedete qui ho in mano con me due smartphone, un riconoscibilissimo iPhone 13 Pro Max e un ROG Phone della Ulephone, ovvero uno di quegli smartphone da battaglia super resistenti. Perché due smartphone? Perché in questo video vi mostrerò un software di Tenorshare, un'azienda che mi ha permesso già di testare diversi suoi applicativi, io di questo gli sono riconoscente, che permette il trasferimento di dati da due dispositivi indipendentemente dal loro sistema operativo. Quindi sia che si tratti di un trasferimento da iPhone ad Android, sia che si tratti di un trasferimento da Android a iPhone e soprattutto in questi ultimi tempi capita sempre più spesso di dover acquistare un nuovo smartphone, magari perché si è guastato il precedente o semplicemente perché noi vogliamo fare un upgrade, quindi avere un dispositivo più performante. E considerando che molti di noi utilizzano app di messaggistica come per esempio WhatsApp, all'interno della quale noi abbiamo tantissime conversazioni a cui teniamo, fotografie, immagini, file audio, documenti, che vogliamo conservare, il trasferimento dei dati da un dispositivo a un altro è fondamentale e riuscire a farlo in tempi brevi ed in modo molto semplice è ancora più utile. Allora in questo video noi vedremo iCareFoneTransfer di Tenorshare, spero di averlo pronunciato bene, iCareFoneTransfer di Tenorshare, ovvero un'applicazione che permette in maniera molto intuitiva di collegare i due dispositivi al vostro computer, che sia Mac o Windows, e riuscire a trasferire i dati davvero in pochissimi click, con un'interfaccia semplice e intuitiva che andremo a vedere insieme. Prima però di entrare nel vivo di questa mia recensione, di questo applicativo di Tenorshare, mi raccomando, questo è il momento di sostenere il mio canale, ovvero di iscrivervi, lasciare un like e attivare la campanella. Mi raccomando, perché il vostro supporto è fondamentale per permettermi di portarvi nuovi contenuti utili qui sul mio canale. Allora andiamo a vedere insieme come funziona iCareFoneTransfer di Tenorshare. Vieni, seguimi! Allora, iniziamo intanto ad aprire l'applicazione, eccola qua, iCareFoneTransfer, in modo da andare a analizzare insieme come è l'interfaccia, quali sono i comandi per utilizzarla al meglio. Eccola qua, come vedete l'interfaccia è molto molto semplice e vi offre la possibilità, per esempio, quello che ci interessa a noi di riuscire a trasferire dati da Whatsapp a Whatsapp su due dispositivi differenti, oppure tramite Whatsapp Business, GbWhatsApp, Kik e Viber. Come vedete qua dalla didascalia, oltre a esserci suggerito di selezionare l'app social dalla quale noi vogliamo trasferire i dati, ci dice, supporta per trasferire i dati dall'app tra due dispositivi, eseguire il backup dei dati, perché ovviamente se non lo eseguiamo non possiamo trasferire niente, visualizzare i dati nel backup e poi ripristinare il backup sul dispositivo e esportarli su computer. Queste sono le funzioni che fa questa iCarphoneTransfer di Tenorshare. Allora, immaginiamo per esempio di volere velocemente trasferire i dati di Whatsapp da uno smartphone ad un altro, la mettiamo alla prova, per esempio collegando come sorgente iniziale un iPhone e come sorgente di destinazione uno smartphone Android, così da avere due sistemi differenti. Allora, cavo dati, vado a collegare la prima sorgente che andremo ad inserire sul lato sinistro dell'applicazione. Aspettiamo che l'applicazione riconosca la sorgente. Ecco, una volta riconosciuta la vediamo in questo bel riquadro. L'applicazione iCarphoneTransfer ha riconosciuto che si tratta di un iPhone 12 che vedete selezionato qua. Naturalmente dovete utilizzare cavetti o dati originali, mi raccomando. Andiamo ora a collegare invece il dispositivo di destinazione. In questo caso ho detto voglio collegare uno smartphone Android, anche in questo caso mi raccomando, cavo dati originale e come vedete qua, ora ve lo mostro cliccando su questa domanda, dispositivo e connesso mi hanno riconosciuto, nel caso di Android è fondamentale che siano abilitate le modalità sviluppatore e la modalità debug USB, altrimenti non verrà rilevato il dispositivo. In questo caso, come vedete, potrete o trasferire i dati in modo che vengano sovrascritti sul nuovo dispositivo, oppure selezionare la voce trasferire e unire in modo che vengano abbinati insieme e non perdiate assolutamente niente. Ma cosa molto interessante è che iCarPhone vi permette, una volta creato il backup, di avere in questa finestra tutti i dati del backup che andrete a ripristinare. Questo è molto utile perché solitamente quando si fa questa operazione invece voi non vedete altro che un file unico, generale. Invece in questo caso se voi andrete ad eseguire il backup di WhatsApp, lo potete fare per esempio sia dal dispositivo stesso, guardate quanto è utile, lo potete fare per esempio andandolo a prendere da Google Drive oppure dal Cloud. Quindi un po' come se aveste a disposizione un pannello di controllo per tutte e tre queste impostazioni. E qua poi vedrete il backup che avete realizzato direttamente in questa finestra, in modo che possiate ripristinarlo su iOS, su Android oppure con la criptografia di pagina. Torniamo al pulsante trasferisci, una volta che abbiamo il nostro backup, abbiamo deciso quali file trasferire, se trasferirli in toto e sovrascriverli oppure unirli ad altri già presenti sul dispositivo di destinazione, andiamo a cliccare sul trasferisci, in questo caso con la versione a pagamento, perché l'applicazione funziona esclusivamente a pagamento, voi dovrete semplicemente cliccare su continua se avete già eseguito il backup oppure backup e poi continua se invece non avete ancora eseguito il backup. Ancora una volta come vedete ci tengo a sottolineare che Tenorshare realizza davvero applicazioni molto molto intuitive, l'interfaccia grafica è molto molto semplice, tutto è diciamo alla portata anche dei neofiti. È importante, voglio spendere pochi secondi per farvi leggere questo messaggio di allerta, che è fondamentale per evitare errori di trasferimento, ovvero fare in modo che il blocco della gestione dei dispositivi mobile, l'MDM, sia disattivato perché altrimenti voi vedrete connessi i due dispositivi ma non potrete trasferire niente. Allora come hai visto l'interfaccia, questa è una caratteristica di Tenorshare, è molto semplice, intuitiva, abbiamo visto insieme, facciamo un breve riepilogo, vi occorrono i cavi dati originali per riuscire a collegare i due smartphone, il trasferimento potete farlo da medesimo sistema operativo, quindi potrebbe essere il caso di trasferimento da iPhone di vecchia generazione ad un iPhone di nuova generazione, potete farlo anche su due dispositivi Android, anche con Android diciamo di diversa generazione, e soprattutto potete farlo anche se gli smartphone sono di due sistemi operativi diversi, iOS o Android, quindi molto molto utile. È importante, ve lo ripeto ancora una volta, che soprattutto nel dispositivo Android siano abilitate le opzioni sviluppatore e che si attiva il debug USB. Naturalmente le funzioni di trasferimento sono molte ma sono abilitate esclusivamente sulla versione a pagamento che però vi garantisco per la rapidità di esecuzione, l'affidabilità nel processo di trasferimento, vale ogni piccolo euro che investirete. Peraltro vi lascio qua sotto in descrizione il link per poter attivare la vostra licenza di iCareFone Transfer di Tenorshare in offerta in modo che non abbiate più scuse per non avere uno strumento a disposizione che vi permetterà di dormire sogni tranquilli quando andrete ad acquistare un nuovo prodotto oppure vi trovate nella condizione di dover trasferire i dati da uno smartphone all'altro. Direi che siamo arrivati alla fine di questo video, naturalmente se avete delle domande, dei dubbi tecnici scrivetevele nei commenti che io tanto rispondo a tutti Andrea Meini alias.Zivago vi rimanda al prossimo contenuto. Ciao, a presto!